signori the grey man film del 2002 dei fratelli russo quelli di degli avenger insomma infinity war bla 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 beh come cast abbiamo pure chris evan e rian goslin come diavolo si legge insomma c'è un super cast super regia hanno speso un sacco dei soldi ma il film non sa di niente insipido praticamente non ha trama dei gran combattimenti anche fatti piuttosto male e onestamente gli darei 66.1 giusto perché ci ha messo tanti soldi ma il film non sicuramente non è uno dei figli che diceva da rivederlo perché mi è piaciuto tantissimo almeno per me comunque su netflix e basta così un saluto a tutti se volete iscriviti al canale se volete lasciate un like ciao ciao